Di questo noi ci sentiamo parte responsabile, ma questo ha a che fare con l'interesse del Paese e questo si misura sulle modalità con cui si immagina eventualmente la possibilità di determinare un quadro di alleanze in quella dimensione e per quella parte dei collegi uninominali. Come tutti sapete la parte proporzionale non prevede programmi comuni, candidati leader comuni e questa è la realtà della legge elettorale. Noi con questo ci misuriamo, per questo ribadiamo che non consideriamo in nessun modo vincolante, ma ribadiamo anche che all'esito di un incontro, se lo avremo nelle prossime ore, lo vedremo, valuteremo, decideremo se esistono o meno le condizioni per fare quello che pensiamo sia utile e necessario.